Anticipazioni imposta al sole. Mercoledì 10 marzo 2021. Patrizio si trova sempre più attratto da Clara e per questo motivo è costretto a fare conti con la propria coscienza e compressanti rimorsi di coscienza. Rossella intanto è in affanno per la tesi di laurea. Ce la farà questa volta? Oppure si ritroverà ad affrontare una nuova brutta delusione? Purtroppo c'è chi continua a metterle i bastoni tra le ruote. Le indagini di Roberto Ferri per smascherare i sabotaggi ai danni di cantieri continuano senza sosta. L'uomo scoprirà mai la verità oppure no? Nel frattempo tra Alberto e Clara si respira un'atmosfera di forte tensione e le interferenze di Barbara Filangeri non fanno altro che peggiorare la situazione. E la donna non ne vuole sapere di lasciare in pace l'imprenditore. Sasa e Bruno non riescono a pervenire a un punto d'incontro. Le cose tra loro si mettono molto male. Sasa e Bruno non riescono a pervenire a un punto d'incontro. Le cose tra loro si mettono molto male. Sasa e Bruno non riescono a pervenire a un punto d'incontro. Le cose tra loro si mettono molto male.